Ben che sia il paese col più ricco patrimonio artistico e il maggior numero di siti UNESCO al mondo, l'Italia ha ancora molto da fare per valorizzare al meglio la risorsa turistica come fattore di ricchezza. In un incontro al maschio angioino si lavora per creare nuova imprenditoria del turismo a partire da temi chiave come innovazione e sostenibilità. I paesi che fanno di più, i nostri competitor, Spagna, Francia soprattutto, sono paesi che seguono una strategia nazionale da molti anni, noi abbiamo approvato il primo piano strategico del turismo solo a febbraio 2017 e quindi non è tanto per avere un documento approvato, è per avere delle priorità strategiche condivise dal settore intorno al quale tutto il settore si possa muovere e altri paesi sono più abituati, noi lo stiamo facendo adesso, però diciamo che i dati ci confortano, aver scelto il tema dei borghi come uno dei temi che consenta di ampliare l'offerta classica tradizionale dei grandi attrattori e fare sì che da lì poi una volta visti i grandi attrattori, una volta vista Napoli per esempio si possa andare anche a Ercolano. L'evento rientra nel percorso delineato con l'accordo Grandi Destinazioni Italiane per un turismo sostenibile, sottoscritto dal comune di Napoli assieme ai comuni di Firenze, Roma, Venezia e Milano. In genere si lega al turismo occupazione di tipo più classico, più standard di ricettività o di alberghiero o di ristorazione, invece intorno al settore del turismo potrebbe muoversi una forma di occupazione veramente molto di alto profilo, anche con capacità di guadagno sviluppo evoluta e consistente e che potrebbe avere spazi importanti perché i flussi turistici nei prossimi anni in Italia aumenteranno di molto. Facciamo conto la gestione e l'accoglienza dei turisti, che cosa significa? Magari fare dei check-in agli hotel in maniera più intelligente, ad oggi il check-in è dispendioso di tempo, lo faccio fisicamente con una persona quando arrivo in hotel, devo ricercarmi la mail della prenotazione, voglio dire c'è un problema forse in questo scenario, quindi mi aspetto a una start-up, un'azienda che vada a risolverlo in maniera innovativa. Innovativa non è necessariamente tecnologia, può essere anche semplicemente un metodo che tu vedi differente di gestire un processo. Nell'ambito dell'iniziativa è in corso una competizione fra 20 giovani aziende su alcune proposte innovative per il turismo. Si lavora sui temi dell'accoglienza, della mobilità e delle città intelligenti. I dieci migliori progetti saranno premiati dal Mibact con un finanziamento di 10.000 euro che servirà a realizzare le idee imprenditoriali. In generale è mobilità, come abbiamo detto è accoglienza e in Italia, lo dicono tutti e lo ripeto perché è importante, c'è anche tutto il tema dei, chiamiamoli bene, culturali. Quindi c'è una forte attenzione anche elettorale, in inglese si chiamano enabler, quindi abilitatori, nuove tecnologie che permettono di gestire anche il nuovo ingresso ai musei, ingresso alle location in maniera molto più facilitata. La creatività deve trasformarsi in capacità di trasformare in impresa, cioè in occasione di sviluppo, di crescita sostenibile, di lavoro per i nostri giovani, la nostra grande ricchezza culturale, il nostro immenso patrimonio che è fonte di richiamo per i turisti. Quindi migliorare la qualità dei servizi e della fruizione attraverso le nuove tecnologie è la sfida. Questa iniziativa che vede qui 20 start-up che un po' gareggiano in questo senso è solo un pretesto per innanzitutto dare informazioni, ci sono risorse che si possono utilizzare, c'è interesse di investitori e quindi questo paese che invecchia deve cercare di ringiovanirsi attraverso la creatività, le opportunità che dobbiamo sapere offrire ai nostri ragazzi. Grazie. 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 Grazie.